ma è buio qua andiamo a se ceda questo ovetto è lunghissimo si può dire un ovetto? oh no questo è un soruolo è proprio un cane cattivo questo è un soruolo quando è appena partito dobbiamo aspettare un po' aspettiamo intanto guardiamo il panorama allora mi dicono che dobbiamo andare fino a su lì ma stiamo sicuri? vogliamo proprio farlo abbiamo fatto questa grandissima scalata con la funicolare e siamo su finalmente quel cane vuole andare giù prima panoramica che scalata eh è stata durissima ti vedo stanca se non stiamo via provate vedete marina dice che lì sembra che muori se vai giù secondo me muori e basta non è che sembra o no 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 ricordiamo che se volete disabilitare i commenti basta che abbassate il volume come di partire toglia teda col cero si mangia troppe va bene dopo aver mangiato partiamo un po' 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 Sì, sì, sì. Ciao E' un'olpaca piccolina Mini-olpaca O'olpacchine O che bello E' un'olpaca Superconi Rai, ti piacciono? Rai, ti ho mangiato la metà. Poi ripartiamo. La scala dove vince. Va bene. Allarghiamo. Continuiamo la discesa verso Santa Cristina. Giusto? Giusto. Giusto. Una stellina alpina. Santa Cristina, ci siamo. Cioè ci siamo. Siamo qua. Stiamo andando dalla parte giusta più che l'altra. Mi trovo tutta qua. Quanto sotto qui, qui, qui. Dobbiamo fare così. Mii quanto manca. Ci sono i pesci saltellanti. Vediamo se ne ecco uno. Eccolo. Eravamo sulla. Sulla sinistra dove c'è la finita. La finita. La finita. Quello che è. E andiamo là. Cioè in giù. Questa sembra una di quelle che vedi solo nei film. Dice cambio finta. E invece no. È tutto vero. Va che vista. Proseguiamo verso Santa Croce. E la strada è questa. Direzione Ortisei per noi. Ma la strada è questa qui. Questa è quella che abbiamo fatto il primo giorno. Eh? Questa è quella che abbiamo fatto il primo giorno. Giusto. Santa Cristina. New Rant. Allora. Diamo i nomi ai monti sulla Marina Sarrabbia. La abbiamo il sella. O la sella. Credo il. Poi quello è il sasso lungo. Sasso piatto di fianco. E di là il catinaccio. Mamma mia che studiosi che siamo. Bene. Piano piano stiamo scendendo verso Ortisei. E sta arrivando anche il tramonto. C'è il biattino. E tranquillo. Scappa. Se no. Ti mischiano nella polenta te. Proviamo ad avvicinarci. No. Dai. Non scappare. Stai qua. Ciao. Ma che bello. Pizzetto di bosco. La strada si divide tra 4 e 4.32. Dove dobbiamo andare. E lo chiamo squarcio. Bene dai siamo quasi addirittura ad arrivo. Scendiamo verso Ortisei. La strada era giusta. Al tramonto, va che bello. Ancora cerbiattini, cerbiati, cervi, chi sono? Siamo quasi a Ortisei, manca 10 minuti, gli siamo scesi da lassù, perché ormai non si vede più, però era più o meno lassù, addietro lassù, adesso andiamo laggiù, cioè di qua. Abbiamo fatto un po' stai anche, vabbè, c'è già. Ortisei al tramonto, con queste immagini vi salutiamo e finiamo le vacanze. A presto. 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 Grazie a tutti